cari amiche e cari amici ho belle notizie per quello che riguarda i rientri non ci sono assolutamente notizie per quello che riguarda invece il mercato mercato portiere mercato attaccante tutto tace noi dobbiamo pensare non a quello che succederà a giugno ma quello che succederà a gennaio e soprattutto in campionato non ci sono notizie ma penso proprio che ci saranno dei giorni caldi i prossimi saranno giorni caldi per quello che riguarda Giroud Benasser e Leao date precise in questo momento non riusciamo ad averne ma vi dico che per quello che riguarda Giroud entro la fine del mese il Milan vorrebbe chiudere la situazione mentre Benasser e Leao ogni giorno può essere utile per riprendere in maniera fattiva le trattative non dobbiamo dimenticare che è ancora un periodo di festa non tanto per il Milan e i suoi dirigenti ma in generale a livello mentale qualcosa succederà dal 9 in avanti dal lunedì 9 ma indubbiamente il Milan cercherà di accelerare per capire la reale consistenza di una chiusura non tanto per quello che riguarda Giroud c'è grande ottimismo ma per quello che riguarda Benasser e Leao e si parla di fiducia notizie di questa mattina non notizie ipotesi di questa mattina parlano di un'eventuale offerta intorno al 6 e mezzo più bonus giriamo sempre lì ma a noi per capire quale sia la trattativa vera quando cosa succederà ci devono dire cosa faranno di quei 19 milioni quando qualcuno mi saprà dire esattamente quale sarà l'impostazione delle due parti per i 19 milioni allora darò retta adesso che il Milan sia disposto a dargli 6 più bonus 6 e mezzo più bonus l'abbiamo sempre detto che il Milan vorrebbe chiudere in dei 6 ai 7 sapendo di dovere andare oltre andare oltre il tetto del 4 e mezzo ma se non ci dicono che cosa faranno di quei 19 milioni che ballano con il contenzioso con lo sporting di Lisbona c'è anche un'altra situazione Orighi è un po' la chiave di volta lo avevo detto speravo che non non avesse infortuni invece è ricaduto ancora ecco Orighi non solo lo vogliamo vedere in campo e convocabile lo vogliamo vedere incisivo perché anche nell'amichevole che abbiamo visto a Dubai sì non si è segnalato particolarmente però il fatto che ci sia incomincia a dare del comincia a dare Pioli può avere delle alternative può avere delle soluzioni quello importante averli per poter dare delle soluzioni Chier per esempio può dare delle soluzioni dietro dietro dove il signor Gabbia come prima alternativa a Tomori Calulu che caso vuole avete visto tutti abbiamo preso il gol quando Calulu si è spostato a destra invece in mezzo sono stati formidabili e quindi l'importanza di Chier l'importanza di Orighi l'importanza del fatto numerico Frank si è rientrato Pubega è sempre pronto c'è il problema di Ballotouré che non ha alternative ma possiamo mettere Dest che non sarà come Ballotouré visto che è infortunato Ballotouré c'è l'alternativa a Teo Hernandez Ballotouré non c'è vediamo dunque Dest può essere una soluzione non solo soluzione ottimale ma il Milan non può avere una rosa di 40 giocatori per stare tranquillissimo l'importante che riescano a tenere in questo mese di gennaio di cercare di rientrare più giocatori possibili e dopo ha detto due mesi infernali ha detto Piole due mesi importanti da gennaio fino a marzo fino alla partita dell'otto marzo contro il Tottenham ma in queste partite c'è da tenere non c'è il problema della Champions League che ti asciuga e ti prosciuga e quindi è importante che mi rientrano in tanti giocatori la notizia che vi do che non avete ancora letto e vi ho detto ieri è che lunedì dovrebbero uso ancora il condizionale condizionale essere a disposizione Orighi e Messias e intanto incomincia la rosa a rimpomparsi un po' di più rinnovi nessuna nessuna novità attaccante mi sa tanto che non vadano io nonostante quello che io avrei desiderato però quello che mi interessa è ribadire la prestazione di ieri non ho visto l'Inter o mi hanno detto un Napoli un po' balbettante la Juventus continua a vincere però non dà mai l'impressione della irresistibilità riesce sempre a sgamare la partita già importante quando non sei in forma sgamare la partita e non sono in forma i suoi campioni però sul piano del gioco signori il Milan è ancora il più forte d'Italia il Milan è ancora il più forte d'Italia la squadra più forte d'Italia sul piano del gioco della bellezza quindi me lo tengo caro qualcuno direbbe il Napoli io mi tengo il Milan ieri hanno giocato quando giocano 10 giocatori di movimento a quel livello lì direi che è un caso che siamo che la partita fosse sul 2 a 0 e a maggior ragione sul 2 a 1 quindi mi tengo caro la prestazione una bella prestazione finalmente una grande prestazione del Milan che deve ribadire questa prestazione deve essere ribadita contro la Roma perché battere la Roma vorrebbe dire totalmente allontanarla per quello che riguarda il Milan dalla zona Champions League la Roma 30 il Milan riuscisse a vincere andrebbe a 39 a proposito chiudo ricordando la classifica della scorsa stagione alla sedicesima giornata quando mancavano tre giornate come ne mancano adesso tre Roma Lecce e Lazio il Milan aveva 38 punti ha detto adesso ne ha 36 ma nelle ultime tre aveva pareggiato con l'Udinese perso col Napoli e vinto con l'Empoli quindi portando a casa 4 punti e ha finito a 42 per arrivare a 42 o superarlo servono 6 o 7 punti in due partite speriamo che il Milan riesca a portarli a casa con la Roma in casa sfruttare casa Lecce è un campo infido difficile e pericoloso tanti ci hanno lasciato le pennine vedi Lazio ieri però un Milan che ben inconscio delle sue qualità può fare la partita bene a Lecce sabato poi ci sarà l'impegno contro l'Inter ma Lecce sarà importante e riuscire ad arrivare allo stesso punteggio di 42 dello scorso anno portando a casa due vittorie magari superandolo con un pareggio e vorrebbe dire che il Milan si è ripetuto per il terzo anno l'estate del 20 21 20 21 e 21 22 ma che cosa si vuole di più con tutti i problemi e gli ostacoli che hanno impedito ancora un cammino ancora più rapido che cosa si vuole di più da questa squadra se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like iscrivetevi al canale su di Carlo Pellegati attivate la campanella arriviamo a questi 140 mila iscritti ma per libidine per soddisfazione per puntare ai 150 e scaricati sempre dal link in descrizione l'applicazione numero 10